Oh, lontano da me da prendere le difese di Beppe Grillo, sapete? Però anche quelli che dicono che lui non può fare la marcia della povertà perché è ricco. È come se io dicessi che Bertinotti e D'Alema non possono rappresentare la sinistra perché uno c'è la remocia e il giubbottino, il golfino di Kashmir e l'altro la barca a vela a Gallipoli. Che poi tra l'altro D'Alema non ha mai fatto un cazzo nella vita.